Salve a tutti ragazzi, sono Master Wall, scarico, carico, carico. Allora, the last bulk, l'ultima massa. Come capire quando siete arrivati al vostro potenziale naturale? È una domanda che può sembrare un po' prematura, perché probabilmente la maggior parte di voi sono ancora in questa fase di costruzione, di massa, quindi anno dopo anno stanno cercando di migliorare e questo è giusto ed è bellissimo, è una grande avventura, è la vera avventura del culturismo questa, cioè migliorare anno dopo anno, uno ha uno scopo, no? Vi allenate per uno scopo, mentre la maggior parte della gente si allena così per fare qualcosa, ma non hanno motivazione, non hanno scopi, e non è bella questa cosa. Però si arriverà a un punto ragazzi che prima o poi, come dire, siete arrivati al limite, più di tanto non ce n'è, quindi l'ultima massa, io mi auguro che la vostra ultima massa arrivi più tardi possibile, però arriverà. Cosa vuol dire l'ultima massa? Vuol dire che siete arrivati a un punto che miglioramenti non ci sono più, cioè avete dato tutto quello che c'era, io sto parlando però facendo il meglio, non sbagliando, perché se sbagliate potete andare avanti anno dopo anno, tanto non costruite niente, ma perché non siete sulla strada giusta, lì siete in un loop negativo che non se ne esce. Ma l'ultima massa vuol dire che voi avete certamente costruito molto in termini di massa, forza e misure, e si spera che probabilmente siete arrivati a un buon livello, che io spesso ho cercato di quantificare con un più 10 HP sotto i 10% di grasso, almeno 45 di grasso, mediamente, ho provato a quantificare, però potrebbe essere anche di più. Ma come capire quando si è arrivati veramente all'ultima massa? È semplice, si capisce dopo due anni, allora si capisce dopo due anni, ma vi faccio una premessa, poniamo che voi state facendo la MWS e la teoria dei conti in manca, quindi siete partiti col piede giusto e state facendo questa cosa. Meglio sarebbe se siete seguiti da Master, con il coaching online, comunque vabbè, poniamo che fate le cose per bene. Se dopo, dunque il primo anno che, a certo punto è arrivata un anno che non migliorate il vostro record di peso, di massa, forza e misura, non ce la fate. Questo presuppone che in estate, bene o male, forse potreste essere un pochino più magri, che sarebbe un successo, però sostanzialmente non siete migliorati. Voi dite, vabbè, magari ho sbagliato qualcosa, ci riproverò. Ma se le cose le fate per bene, già il secondo anno non succede nulla, cioè vedete che veramente non è riuscita a incidere più, neanche un centimetro in più di braccio, neanche, non so, 5 kg in più di massimale, o anche il peso corporeo, quando arrivate lì, di tanto non andate, beh, ragazzi, non è scontato, ma potrebbe anche essere, probabile, probabile che siete arrivati al vostro limite. Però, io vi parlo del secondo anno, perché un anno di sbagli, forse ci può stare, ma se anche il secondo, se avete fatto quello che pensate giusto e siete, vi siete fermati, più di tanto non fate, può anche darsi che siete arrivati. Quindi, è questo che vi voglio dire. Allora, per capire bene questa cosa, ci vuole anche dell'esperienza, sarebbe anche utile appunto se Master potesse giudicare questa cosa, perché io poi capisco, io capisco, vedo se uno veramente è arrivato al limite o no, sulla base di quello che ha fatto, di quello che ha costruito, come l'ha fatto, si capisce. Però, ragazzi, ripeto, ammettendo che fate le cose per bene, secondo le nostre strategie, se per il secondo anno di fila non migliorate, può darsi che siete arrivati. Ragazzi miei, a un certo punto si è arrivati. Se qualcuno mi chiede, ma tu quando è che hai fatto l'ultima massa? Ma onestamente non me lo ricordo, però so che ero arrivato veramente al massimo. Credo, perché forse avrei potuto forzare un po', forse, nel senso che avrei potuto anche arrivare a oltre i 112 kg, forse i 115, qualcuno ha detto a Master di arrivare a 120, ma non so se ci vediamo. Perché dopo sarebbe anche difficile di dimagrire, poi insomma, comunque ho ottenuto tanto e credo che veramente di aver fatto, credo di aver dato il massimo. Forse teoricamente qualche ulteriore margine c'era, ma comunque avevo dato veramente tanto e comunque poi a un certo punto può diventare anche un po' rischioso, specie quando magari non sono neanche più giovanissimi. Aumentare tantissimo di peso, molti carichi, non è una cosa che vada bene. Bisogna fare queste cose quando si è abbastanza giovane. O quantomeno, se cominciate dopo gli ANTA, ok, se fate le cose per bene, comunque in qualche anno, in degli anni potrete ottenere molto, questo sì, se abbia stato meglio iniziare da giovani, è ovvio, però si può migliorare moltissimo anche oltre gli ANTA. Ovviamente noi lo stiamo facendo per tante persone che sono contente e stanno migliorando. Però ripeto, prima si comincia nel culturismo e prima è meglio è, perché da giovani ci sono più risorse, ci sono più recupero, più tutto, più energie, si ha molta più tolleranza allo stress psicofisico, no? C'è a dire che io purtroppo non avendo una vera guida e avendo sempre guardato i campioni e i bombaroli, ho perso molti anni ad allenarmi secondo le loro idee folli, tecnicamente, e quindi ho perso degli anni. Voi almeno avete il vantaggio che se venite con noi, noi vi indichiamo da subito la strada giusta. E questo è un vantaggio, io avevo nessuno che mi dica la strada giusta, ma proprio nessuno. Quindi cercate a profittare di questo momento storico e noi siamo qui per voi. Allora, attenzione, perché questa sarà la vostra ultima massa? O forse no, vi attendono ancora altri anni di miglioramenti? Valutate voi, se volete un aiuto di Master, la sua valutazione, Master è qui. Grazie a tutti, al top.